Ci sarà Yusundur questa sera sul palco della Rotonda Diaz in un concerto all'aperto davanti al mare nell'ambito di Doc of Sounds, la rassegna del Forum Universale delle Culture, in una serata che sarà aperta dal cantautore napoletano Giovanni Bloch. La presentazione di oggi a Palazzo San Giacomo è stata l'occasione per un incontro che ha coinvolto la comunità senegalesi a Napoli in cui si è parlato dei rapporti fra le due culture. C'è un'occasione molto importante per il brassaggio delle culture, perché credo che la cultura è al primo e alla fine di tutta l'integrazione. Il Sennegale è un paio con 14 milioni di abitanti, ma è un paio molto grande culturale. Quindi pensiamo che con la ville di Napoli, che è una ville straordinaria, noi possiamo fare questa integrazione culturale in maniera molto forte, ma in maniera di raggiungere. Questo è il modo migliore per raccontare il Forum delle Culture, l'integrazione tra culture, tra popoli e lui è l'emblema principale, uno dei principali rappresentanti dell'impegno politico da un lato, perché il Ministro della Cultura e del Turismo è un grande artista. Noi a Napoli siamo orgogliosi di averlo qui con noi, perché Napoli è una città che guarda a sud e che vuole attraverso la fratellanza, la solidarietà, la cultura, far star meglio le proprie comunità. Ed è anche il modo per ricordare insieme a lui la comunità senegalese che parte integrante della città di Napoli. E ci siamo detti che lui è un po' napoletano e noi siamo un po' senegalesi. Grazie mille.